Dalla mostra del cinema di Venezia che inizia mercoledì parte la campagna per il ritorno del pubblico in sala in sicurezza. Uno spot con tanti attori, protagonisti di grandi film. L'inviate Paolo Sommaruga. La forza dei film e delle star, il cinema che riparte, le storie e il pubblico in sala, lavori in corso all'Idolo, l'attesa è alta per un'edizione che mette insieme tanto cinema italiano, Hollywood in presenza, giovani autori e maestri affermati. Misure di sicurezza confermate con green pass e tamponi. Tornare in sala, spegnere le luci, accendere fantasia, pensieri, emozioni. Non puoi spiegare cosa sta succedendo? Niente, siamo tornati. Un cortometraggio con tanti protagonisti, promosso dal Ministero della Cultura, un film al cinema è meglio, lo schermo grande, la condivisione fa bene alla testa e al cuore. Grazie davvero a tutti gli artisti che hanno reso possibile questo cortometraggio che invita a tornare nei cinema, nelle sale cinematografiche. Con il distanziamento, il green pass, le mascherine, sarà possibile vedere un film in sicurezza e c'è un grande bisogno di tornare al cinema, anche perché quest'anno sarà un anno di grandi film italiani. Che mi sono perso? Che mi sono perso?